Oggi dobbiamo assolutamente parlare di Corsair Gaming. Questa azienda ha portato dei risultati che apparentemente sembrano ottimi. È riuscita a battere tutte le stime degli analisti, eppure le azioni stanno comunque crollando. Nel momento in cui sto girando questo video le azioni scendono dal 5%. Benvenuti su Investire con Gus. Oggi cercheremo di capire cosa sta succedendo alle azioni Corsair. Perché stanno crollando nonostante l'azienda abbia battuto tutte le stime degli analisti? In questo video proveremo a fare un po' di chiarezza, perché molti di voi mi hanno scritto sconvolti da questo calo delle azioni. In ogni caso, non preoccupatevi troppo di quello che succede alle azioni dopo i risultati. Perché molte volte basta una piccola parola sbagliata per far crollare le azioni. Basta veramente poco per creare una reazione emotiva senza senso. Capisco che da principianti molti si spaventino, però state tranquilli. Se la vostra analisi è corretta, nel lungo termine il vostro investimento ripagherà. Prima di iniziare vi chiedo soltanto di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se siete nuovi. Se l'avete fatto, grazie. Per prima cosa diamo giusto una veloce occhiata a come sono stati i risultati rispetto alle stime degli analisti. Gli EPS sono stati di 58 centesimi contro una stima degli analisti di 33 centesimi. I ricavi invece hanno battuto anche in maniera molto considerevole 529 milioni contro 449 milioni che si aspettavano gli analisti. Quindi le stime sono state battute in maniera considerevole, in maniera importante, ma nonostante ciò le azioni sono crollate. Per cercare di capire cosa stia succedendo dobbiamo scavare un pochino più a fondo. Per prima cosa andremo a guardare l'investor presentation. Intanto vediamo subito come i ricavi sono cresciuti in una maniera mostruosa, del 72% rispetto all'anno scorso. E dal 2019 la crescita di ricavi del primo trimestre è stata del 47% annuo. Invece il gross profit è più che raddoppiato a una crescita del 104% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. E l'EBITDA ha fatto addirittura meglio e quasi triplicato a una crescita del 197% anno su anno. Qua spiegano la loro intenzione di aumentare le loro vendite dirette ai consumatori. L'obiettivo di Corsair è quello di raggiungere il 15% dei ricavi da vendita diretta ai consumatori entro il 2023. E puntano a farlo utilizzando queste varie strategie. Tra cui una delle più interessanti secondo me è l'affiliazione. Una cosa molto interessante che vedo qua è il fatto che l'azienda si stia impegnando molto a riuscire ad ottenere ricavi derivanti da sottoscrizioni. Quindi ricavi molto prevedibili e costanti. E' incredibile il following che Corsair è riuscito ad ottenere sui social. E lavora con circa 800 influencer che raggiungono circa un miliardo di persone. Adesso finalmente diamo un'occhiata ai freddi numeri. Come vi dicevo prima i ricavi sono cresciuti del 71%. E il margine di profitto lordo ha raggiunto un record del 30%. L'utile netto è stato di 46 milioni. E gli utili per azione diluiti sono stati di 0,47 centesimi. E la crescita qua è stata davvero impressionante. L'anno scorso gli utili per azione diluiti erano stati di 0,01 centesimi. Un'altra cosa molto interessante è il margine netto che è stato dell'8,8%. Molto alto. Molto buono. Anche se durante la conference call il management ha affermato che questo margine netto molto probabilmente non sarà mantenuto durante l'anno. Quindi è probabile che i margini si riducano. Un'altra cosa interessante è il fatto che hanno utilizzato 28 milioni per ripagare un po' di debito accumulato. Questo vuol dire che pagheranno meno interessi quindi la profittabilità migliorerà. E infine altra cosa molto interessante è il fatto che hanno aumentato la guidance per il 2021. Sia sui ricavi che sulla profittabilità. A questo punto ho provato a fare una piccola valutazione utilizzando le stime del management. E utilizzando anche alcuni dati che ho proiettato io. Allora ammettiamo che i ricavi saranno di 2 miliardi e invece il margine netto potrebbe essere dell'8%. Quindi in calo rispetto a quello del primo trimestre però non tantissimo. Questo ci porterebbe a raggiungere nel 2021 un utile di 160 milioni. Se applichiamo un semplice price earning di 25 potremmo raggiungere una market cap di 4 miliardi alla fine del 2021. Considerando che al momento Corsair vale circa 3 miliardi alla fine dell'anno questa potrebbe regalarci un bel 33% di guadagno. Se invece fossimo un pochino più conservativi e applicassimo un margine netto del 7% il valore finale di Corsair potrebbe essere di 3 miliardi e mezzo. E sarebbe comunque un onesto più 16%. Il price earning intorno a 25 mi sembra più che buono considerando il fatto che al momento il mercato azionario ha un price earning più o meno di 25 e la maggior parte delle azioni accresce i suoi ricavi in maniera inferiore rispetto a Corsair. Perciò un price earning di 25 mi appare sufficientemente conservativo. Ma allora perché le azioni stanno crollando del 5%? Innanzitutto dovete considerare il fatto che il mercato è fortemente negativo oggi. Il Nasdaq fa meno 2,63% un calo di poco considerevole e quindi aziende così piccole come Corsair che vale 2,9 miliardi normalmente in giornate del genere crollano di più rispetto al mercato. Probabilmente se il mercato fosse stato positivo Corsair sarebbe salita parecchio però è stata colpita dalla negatività che al momento permea il mercato azionario. Però ci sono sicuramente altre cosette che hanno spaventato un pochino il mercato e gli analisti, ad esempio il management, ha affermato come vi dicevo prima di non aspettarsi dei margini per il 2021 alti come quelli del primo trimestre. Inoltre ci sono ancora problemi con la supply chain. La crisi dei semiconduttori sta causando non pochi problemi anche a Corsair che ha affermato di non essere riuscita a produrre tutti i prodotti che avrebbe voluto. Infatti l'alto margine è stato dovuto anche a questo al fatto che l'azienda si è concentrata sul produrre di più prodotti ad alto margine. Un'altra cosa che probabilmente ha spaventato il mercato è la guidance che sì è stata alzata però è stata molto ma molto conservativa. E come sappiamo bene Wall Street si concentra molto sui risultati di breve termine. Quindi questo conservativismo del management ha spaventato un pochino il mercato. Invece io credo che sia una cosa positiva. Credo che in futuro l'azienda ci riserverà altre sorprese. Perché anche secondo me questa stima, questa guidance è stata molto conservativa come ha affermato anche il management. Il management ha detto che per il secondo semestre del 2021 hanno utilizzato una stima molto conservativa perché non sono in grado di prevedere cosa potrebbe succedere una volta che la situazione pandemica si alleggerirà, si tranquillizzerà. Quindi nonostante i risultati siano stati buoni attorno all'azienda alleggiano ancora parecchi dubbi che stanno spaventando il mercato e gli analisti che sono un po' in difficoltà a proiettare il futuro di questa azienda. Perciò secondo me questa azione sta creando per questo perché ci sono ancora troppi dubbi, troppe incertezze che circondano questa azione. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti. Ciao!